Siamo con Roberto Rioldi, da qualche giorno, forse due o tre giorni, commissario tecnico della Nazionale. È stata una decisione sofferta? È stato un convincimento di Orlandi, per me è un grosso impegno e non ero così sicuro di avere tutto quel tempo. Ho preso questo incarico e dovrò trovarlo. Una poltrona in condivisione con Enk Noren. Enk Noren è il tecnico. Spero che venga due volte al mese a far lavorare un po' a tutti i cavalieri nostri e i ragazzi giovani. Dovrà fare un buon lavoro. Io mi sono organizzato un po' con lui che venga due volte al mese, specialmente in inizio stagione e poi seguirà le squadre nazionali nella Super League. Tu hai una carriera sportiva impegnativa. Come pensi di far coincidere tutto questo? Adesso ci sono i telefonini che ci danno una mano. Dunque l'informazione e i video possono scorrere in tempi veramente reali. Io farò un po' meno di agonismo mio e dedicherò un po' più tempo ai cavalieri che montano. Poi ci sarà qualcuno senz'altro che mi dare una mano per seguire tutti gli eventi importanti in Italia. A casa hai due figli stupendi, bravi, che possono portare avanti tutta la scuderia? Eh, questo si spera, però per adesso sono io che tiro la carretta. Adesso dovrebbero imparare loro a tirarsi un po' i loro cavalli un po' avanti da soli. Una parte dei cavalieri, dei binomi importanti per la nostra nazionale sta all'estero. Come pensi di gestire anche questa parte? È Enk Noren. Qualcuno sta già lavorando con Enk Noren a casa sua. Dunque sono quattro cavalieri che abbiamo all'estero. Un attimino, lui dedicherà tempo a loro che andranno nella sua scuderia a lavorare. È stata recentemente venduta la grigia della Lucia Vizzini. Cosa può fare una federazione per evitare queste vendite? Secondo me niente. Perché un cavaliere che decide di vendere un cavallo, ok, adesso le cifre sono veramente importanti. La federazione non può fare niente, la federazione deve contare sulla volontà del cavaliere di fare il professionista. E se un cavaliere vende un primo cavallo vuol dire che allora pensa un po' di più a altre cose che alla carriera sportiva. Arioldi, come possiamo recuperare gli errori fatti fino adesso? Gli errori che è stato fatto, secondo me, il più grosso è quello di fermarsi solamente sui 4-5 cavalieri di prima squadra. Io penso che oggi quei cavalieri hanno dei buoni cavalli, ma ci sono a casa tantissimi altri cavalieri che montano bene, che hanno una buona organizzazione, che devono essere tenuti in considerazione. Perché oggi magari il cavallo non ce l'ha, ma lo possono trovare se tutti si sentono un po' tenuti in considerazione. Per cui l'ideale sarebbe avere due o tre squadre che girano, adesso siamo in fascia alta, per cui possiamo anche permetterci di avere qualche squadra per partecipare ai grandi concorsi. Sì, bisogna, ok, siamo nella fascia alta, ma bisogna cercare di costruire sia i cavalieri giovani e i cavalli giovani in quegli altri concorsi più bassi di fascia, però che devono uscire per crescere, perché noi, se noi mandiamo i cavalli e i cavalieri nostri a fare dei giri alternativi alla Super League, non si ha che la crescita sia di binomi che di tutta l'organizzazione. Ci sarà un rapporto con l'allevamento italiano? È molto importante, è molto importante avere un allevamento, perché se noi riusciamo a produrre un cavallo che ci serve, sicuramente diventeremo più competitivi. Perfetto, grazie ancora. Prego, arrivederci. Prego, arrivederci.